Relativamente alla situazione degli invasi di acqua presenti nella nostra provincia arriva oggi una nota del presidente dell'Atidrico, architetto Domenico Quelli, che afferma come i volumi di acqua presenti negli invasi Fanaco e Leone, rimasti sostanzialmente stabili dopo le piogge delle ultime settimane, dovrebbero scongiurare il rischio di una crisi idrica nella stagione estiva. Nell'agrigentino comunque resta alto il livello di attenzione dell'autorità di bacino del distretto idrográfico della Sicilia, dell'ente di governo dell'ambito, che sono composti dall'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, dei gestori di ambito come l'AICA e il sovraambito Sicilacque. Nella recente riunione convocata dall'ente di governo d'ambito per fare il punto sulla situazione nell'ambito di competenza, che fa seguito alle riunioni sull'emergenza idrica svolte con l'autorità di bacino e al tavolo tecnico istituito dal presidente della regione siciliana, i gestori dell'AICA e di Sicilacque hanno confermato di essere ragionevolmente fiduciosi di poter contenere eventuali disagi che potrebbero derivare dall'assenza di precipitazioni nei prossimi mesi, in vista ovviamente dell'estate. La disponibilità di risorse idriche, continua il presidente Quelli, per uso potabile nella diga Ancipa in base a quanto emerso dalla riunione, garantirebbe al momento l'approvvigionamento nel Nisseno e nella zona di Enna. Ciò consente a Sicilacque di destinare i volumi d'acqua degli invasi Fanaco e Leone prevalentemente al territorio agrigentino, lasciando quindi ulteriori margini per l'estate.